Le malattie cardiovascolari, tra cui le malattie cardiache e ictus, prendono vita prematuramente. Contrariamente alla credenza comune, le donne sono colpite allo stesso modo degli uomini e anche i bambini sono molto vulnerabili. La maggior parte degli eccessi causati da malattie cardiovascolari sono prevedibili. Per questo motivo la clinica Montevergine ha aderito alla giornata mondiale per il cuore che si terrà il 29 settembre nelle città italiane più importanti. La clinica ha presentato il programma delle attività di prevenzione e sensibilizzazione che saranno compiute dagli esperti della struttura con visite, test e consigli utili. Domenica un punto prevenzione sarà allestito lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. L'obiettivo è quello di informare i cittadini sui fattori di rischio. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo. La clinica Montevergine, come tutte le istituzioni sanitarie che si occupano in modo particolare di patologie cardiovascolari, sarà impegnata nella giornata mondiale del cuore che sarà domenica prossima, 29, attraverso una diffusione di quelle che sono oggi le più avanzate tecniche di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Come sappiamo le malattie cardiovascolari oggi rappresentano nella nostra società occidentale, la nostra società evoluta per diversi motivi, la causa prima di morte. Per cui è molto importante, al di là di quelle che oggi possono essere le cure che è possibile praticare sia per l'evoluzione tecnologica che c'è stata, sia per l'evoluzione farmacologica, ma è molto importante, se si vuole combattere in modo efficace queste malattie occorre la prevenzione, cioè occorre agire su quelli che sono i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, fattori di rischio che sono rappresentati prevalentemente dal fumo, dall'alimentazione, dalla scarsa attività fisica, dallo stress. Fattori di rischio